Comunicare in sanità, comunicare in medicina, non è un problema di poco conto e noi che settimanalmente andiamo in onda con un rotocalco che vuole dare una corretta informazione in sanità sappiamo quanto questo sia un tema molto delicato, affrontato in una tavola rotonda qua presso il nuovo pollo ospedaliero di San Bonifacio con esperti davvero di rango. Così documentiamo questo momento convegnistico più una tavola rotonda che un convegno insieme con altri sedezzi che il nostro sommario annuncia. In questo numero comunicare in sanità è sempre più un tema attuale. Hospice, quello di Marzana completa la rete di assistenza al malato oncologico. Guadagnare salute in collaborazione con il Sian vi parlerà del Last Minute Market. Orlandi, all'ospedale di Bussolengo è stato inaugurato il gruppo operatorio 5 sale all'avanguardia ed ancora incontreremo Francesca Martini, l'assessore alle politiche sanitarie della Regione Veneto.